Ho appena ricevuto la telefonata di Enzo Labbrocca, il quale è risultato positivo ai test del drive-in a Formia, quindi mi prega di informare tutti i cittadini che hanno avuto contatto con lui, di recarsi al drive-in a Formia, sottoporsi al testo, di chiamare, telefonare al medico di famiglia affinché si avvieno le procedure. Ovviamente è una cautela e questo grande senso di responsabilità che contraddistingue Enzo Labbrocca e che ha contraddistinto altri imprenditori che si sono preoccupati di tutelare la salute dell'intera comunità gaetana, ma possiamo dire dell'intero Golfo di Gaeta. Quindi grazie a Enzo e ovviamente invito tutti i cittadini che hanno avuto un contatto diretto negli ultimi 7-10 giorni a recarsi al drive-in a Formia o a telefonare al proprio medico di famiglia per iniziare le procedure per sottoporsi al tampone.